Osticipo di Serie C, Girone C, che vede impegnata la Turris nella trasferta contro il Bisceglie. Partita prevista inizialmente per le ore 17.30 di domenica 11 ottobre, ma che si giocherà in serata alle ore 20. Le due squadre si ritrovano contro dopo quasi quattro anni, con l'ultimo precedente datato 17 aprile 2016, favorevole ai torresi che si imposero per 2-1. Domenica sera il calcio d'inizio, con i biancorossi che dovranno confermarsi in una trasferta non semplice, con un Bisceglie alla ricerca dei primi punti stagionali e che non hanno ancora esordito in campionato. In occasione del match, mister Fabiano potrebbe riproporre il 4-3-1-2, intravisto già nei precedenti impegni contro Virtus Francavilla e Viterbese. Sicuro alla riconferma di Abagnale in porta è del centrocampista Daniele Franco, che ha brillato nel 2-1 casalingo contro la Viterbese. Al centro della difesa ballottaggio tra Dinunzio e Lorenzini per una maglia da titolare, formazione che non dovrebbe variare per il resto.